cari amici di opera classica e cari amici argentini di eco italiano ho l'enorme onore e il piacere di avere qui uno splendido mezzo soprano che è Aloisa Heisenberg ciao come stai? Ciao Serena tutto bene e grazie mille di avermi invitato a fare questa video intervista piacere tutto mio e benvenuto ad opera classica grazie ancora un saluto anche a chi ci sta seguendo grazie allora Aloisa prima domanda ma come ti sei avvicinata alla musica allora guarda non ho avuto tante chance in famiglia nel senso che io vengo da una famiglia di musicisti quindi è stato molto facile avvicinarmi sono nata nella musica perché sia i miei genitori sono entrambi pianisti e poi ho cinque fratelli e tutti quanti musicisti diciamo che tutti hanno studiato e poi qualcuno ha scelto di fare altre professioni e qualcuno invece fa il musicista però comunque in casa mia si respira musica da sempre ok se puoi dirci ovviamente a grandi linee le tappe del tuo percorso di studi allora guarda io ho iniziato a quattro anni il violino con il metodo suzuki che è un metodo giapponese proprio per bambini molto piccoli in cui il genitore ti accompagna e impara anch'esso a suonare lo strumento perché poi a casa ti deve aiutare a studiare essendo tu molto piccolo è un metodo tra l'altro consigliatissimo se c'è qualcuno che sta ascoltando e ha dei figli a cui vuole far imparare uno strumento e quindi ho iniziato con il violino poi a 11 anni sono entrata in conservatorio e mi sono diplomata nel 2008 in violino quindi poi ho iniziato a suonare in varie orchestre prima a pesaro che è la mia città poi alla giovanile italiana che ha sede alla scuola di musica di fiesole e poi da lì sono anche finita nell'orchestra cherubini che è l'orchestra appunto diretta dal maestro muti e quindi questo è stato il mio percorso violinistico che comunque è stato anche se adesso è stato accantonato ma direi che è stato la base di tutto anche quello che sono adesso ecco ma appunto come tu hai citato poc'anzi dall'ottobre 2011 collabori con l'orchestra giovanile luigi cherubini diretta appunto a una colonna del podio che il maestro ricordo ecco come da cosa è nata questa collaborazione se puoi un po parlarci appunto di questa prestigiosa collaborazione allora la collaborazione adesso ti dico la verità non ci collaboro più perché comunque il canto è diventata la mia professione e il violino non ho più tempo di di studiarlo quindi non mi va di di suonarlo senza studiarlo e però ci sono finita perché io appunto facendo parte dell'orchestra giovanile italiana con sede a fiesole era una delle orchestra da cui attingevano nell'orchestra cherubini nel caso avessero bisogno di violinisti e anche di altri strumenti quindi sono stata chiamata tramite l'orchestra giovanile poi ci sono stata comunque per cinque anni abbiamo girato il mondo devo dire la verità è stata un'esperienza incredibile perché abbiamo veramente visitato tutto il mondo sono stata anche in argentina che appunto è il paese di origine di mio padre e in più abbiamo lavorato con col maestro muti che non c'è bisogno di spiegare cos'è lavorare con lui è un maestro noi in cherubini lo chiamano il mago quando lui arriva veramente con il suo gesto con la sua musica lui sistema fa le magie tutto funzionava tutto era prendeva una piega veramente mai sentita è molto serio in cute terrore come tutti sanno però quindi diciamo che quando c'è lui si lavora molto bene anche perché c'è una grandissima concentrazione preparazione e devo dire che erano tanti anche i momenti in cui lui era di buon umore quindi grandi risate grandi battute comunque quello che mi ha sempre colpito di lui soprattutto quando facevamo le opere è che lui ci spiegava continuamente il nesso tra la musica e il testo cioè come la musica richiamasse ogni parola del testo mi ricordo anche quando abbiamo fatto falstaff per esempio lui ci faceva capire ogni frase musicale quale frase del testo stesse sottolineando e suonare così è tutta un'altra cosa perché capisci tutto e quindi niente l'ho rivisto pochi giorni fa qui a trieste e sono andata subito a salutarlo ed è stato veramente bello quindi sono stata molto fortunata infatti è venuto a trovarvi durante le prove di amorosa presenza di cui dopo ci parlerai un pochino per quello che vuoi da tradimento fantastico allora in occasione dell'opera studio 2015 curata dal baritono leonucci che tutti sappiamo ecco un'altra colonna dell'opera finalizzata la realizzazione dell'opera l'amico fritz di mascagni hai debuttato presso il teatro municipale di piacenza ecco voglio un po' sapere le tue emozioni insomma cosa provasti riguardo questo debutto che emozioni provate appunto leonucci una situazione un po' particolare un po' come muti esattamente allora innanzitutto lui sapeva leonucci sapeva che io suonavo e cantavo quindi lui ha avuto l'idea di fare questa quest'opera l'amico fritz in cui uno dei personaggi che beppe lo zingaro nella storia suona il violino e quindi nell'opera c'è un solo quattro minuti e mezzo che solitamente il primo violino suona e la cantante fa finta di suonarlo lui invece appunto sapendo che io facevo entrambe le cose mi ha proposto di fare entrambe le cose appunto io ero molto felice però devo dire che è stato un impegno enorme perché il solo era difficilissimo io appena finivo di suonare attaccavo immediatamente a cantare in più era veramente il mio debutto possiamo dire serio e il ruolo è da mezzo soprano acuto ovviamente però io all'epoca studiavo ancora da soprano quindi anche lì mi sono dovuta adattare al ruolo e in più c'era l'orchestra che rubini a suonare che è l'orchestra dove io suonavo quindi erano tutti diciamo con le antenne dritte e quindi è stato molto 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 impegnativo però una soddisfazione incredibile lui era felicissimo io pure e mi ha anche scritto tratto la figlia di una cantante che nel 1950 ha fatto la stessa cosa e mi ha mandato anche delle foto insomma anche lei era molto emozionata quindi poi va beh lavorare con nucci anche lui cosa te lo dico a fare c'è un regista bravissimo e anche lui appunto con la conoscenza che ha dell'opera anche lui ti spiegava tutto quello parola per parola poi un'energia incredibile arrivava faceva spostava cantava è una cosa e poi sempre allegro sorridente infatti siamo ancora in ottimi rapporti perché diciamo che dai gli ho fatto un bel regalo perché lui ci teneva tantissima che io facessi questa cosa quindi ci siamo fatti un regalo a vicenda bellissimo ma poi anche bellissimo e commovente questa cosa diciamo che negli anni 50 è già stato esatto veramente mi ha fatto un sacco piacere tra l'altro mi ha mandato delle foto ed era vestita praticamente come ero vestita io molto simile quindi il passaggio di testimone ma la prossima sarà tra altri 70 anni ok diciamo che è un po un come una sorta di punto al proprio percorso lavorativo ecco diventa sempre scelti per fare questo ruolo particolare non lo fanno e diciamo che sì non ci sono tanti cantanti che prima suonavano uno strumento però ma io siccome non ho mai smesso di suonare anche quando ho iniziato a cantare comunque non avendo nessuna certezza quindi quando ho fatto quell'opera ero ancora diciamo sotto allenamento e quindi sono riuscita a farlo bravissima allora dopo che sei stata ammessa alla scuola dell'opera italiana presso il teatro comunale di bologna ha interpretato vari ruoli previsti in stagione tra cui angelina nella cenerentola del tre mie personaggi preferiti ecco floria berbois e tra l'altro traviata la mia opera preferita quindi tutti i tuoi preferiti allora sì e zina gianni schicchi ecco ci puoi parlare di queste tre esperienze certamente allora c'è il ruolo di angiolina è stato uno dei primi da mezzo soprano che io ho fatto perché appunto io quando sono entrata alla scuola dell'opera avevo da pochissimi mesi cambiato registro vocale e anche lì grandissima difficoltà perché è un ruolo rossiniano tra i più difficili e oltretutto noi è vero che era una versione ridotta perché era per le scuole però comunque l'abbiamo fatto in teatro sul palco con l'orchestra del teatro di bologna quindi comunque va fatto a regola d'arte non si può prendere sotto gamba anche se facevamo parte della scuola quindi è stato veramente un'esperienza che mi ha innanzitutto svegliata cioè proprio non ho avuto tempo di adagiarmi ho detto qua bisogna che subito mi do da fare perché ho capito che non potevo tanto andare a rilento e è stato bellissimo sono riuscita anche a fare dei video che poi mi sono serviti per audizioni che ho fatto successivamente per essere presa in altre in altri progetti quindi e appunto anche dal punto di vista delle agilità è stato il ruolo che mi ha fatto mettere lì studiarle giorno e notte e perché sono una tecnica che va continuamente affinata c'è chi ci nasce ce le ha molto facili non nel mio caso io le ho le ho dovute studiare tanto e non sono il mio cavallo di battaglia però comunque è stato il ruolo che mi ha dato la possibilità di approfondirle anche perché rossini va va fatto se un mezzo soprano come come me lo deve fare l'esperienza della traviata di gianni schicchi allora la traviata è anche lì la regiera di alfonso antoniozzi che quando mi ha visto il primo giorno ha detto sei pronta a fare la versione osè di flora ecco quindi è stato il ruolo che mi ha fatto capire che dovevo mettere da parte inibizioni e timidezze veramente perché era appunto una versione così un po' in cui c'era da svestirsi non troppo però insomma era la sua interpretazione quindi lì veramente è stata l'occasione in cui ho detto mi sono detta che per fare questo mestiere non non puoi essere inibita sul palco devi togliere tutte le timidezze superando le però con la consapevolezza che è il bello anche del mio mestiere ed è quello che alla gente al pubblico piace quindi mi è servito molto zita è stata anche un'altra esperienza incredibile era con tutti i miei compagni della scuola quindi ci siamo divertiti tantissimo mi sono vista in versione settantenne perché ero truccata da vecchia parrucchia da vecchia e però vabbè un ruolo divertentissimo quindi come tutta l'opera e qui dai la scuola devo dire che mi è servita tantissimo ok allora isa quali sono i ruoli che hai già debuttato allora io ho già già debuttato appunto cenerentola e rosina poi ho debuttato ruoli di opere conosciute ruoli minori come adesso ho fatto tisbe a bologna ho fatto zaida nel turco in italia flora l'ho fatto tante volte e in più ho fatto tanti ruoli di opere moderne contemporanee perché appunto io essendo diplomata in violino sono spesso chiamata a fare anche cose un po più particolari dove magari serve una preparazione musicale non che i cantanti non ce l'abbiano perché ce l'hanno tutti però sicuramente il mio bagaglio da violinista mi ha aiutato tanto a leggere anche musiche un po più complicate ritmicamente dal punto di vista di note quindi ne ho fatti tanti e devo dire che mi incuriosiscono sempre tantissimo ok ecco adesso ti faccio questa domanda se puoi parlarci perché prima abbiamo citato nicola piovani ma tu in questo periodo sei a trieste proprio per amorosa presenza io sono la presenza ti chiedo di dare le tue impressioni per quello che tu puoi dire ovviamente non altro però tu hai già collaborato con nicola piovani quindi ti voglio un po ascoltare nel riguardo queste collaborazioni e un po su quello che puoi amorosa presenza a trieste va benissimo allora la collaborazione è nata per puro caso perché io so che cercava un mezzo soprano e un suo carissimo amico bruno moretti che mi aveva appena sentito mi ha chiesto posso dare il tuo numero al maestro piovani ho detto beh certo quindi poi ci siamo visti a roma mi ha fatto un'audizione in cui ho cantato l'aria di rosina che però in realtà era solo per sentire la voce perché poi lui ha scritto ho lavorato con lui su musiche scritte da lui quindi tutt'altro genere 15 ho già collaborato per questa opera che gli hanno commissionato dall'aquila l'anno scorso nel 2009 per commemorare i dieci anni dal terremoto e quindi abbiamo fatto questo brano a che si chiama sinfonia delle stagioni alla basilica dell'aquila poi dopo qualche mese mi ha richiamato dicendo che aveva ottenuto la possibilità di realizzare questo suo progetto che lui ha da 40 anni che è quest'opera lirica tratta da un romanzo di vincenzo ceramiche si chiama amorosa presenza e niente quindi sono due anni che si deve fare perché è una del tante cose saltate e lui il maestro è una persona gentilissima veramente disponibilissima lui addirittura anche per scrivere quest'opera mi ha telefonato e mi ha chiesto come volevo che mi scrivesse la mia aria quindi con che nota vuoi iniziare con che nota vuoi finire insomma ce le ha scritte su misura e non posso appunto dire tanto però vabbè la trama comunque se uno ha letto il libro non è segreta perché appunto è una storia estremamente moderna tra l'altro sulla libertà anche dal punto di vista sessuale amoroso di gusti quindi molto attuale e quindi niente speriamo che la riusciremo a fare la regia e di chiara muti e anche lei bravissima molto paziente e tra l'altro io appunto per quello l'altro giorno c'era suo padre che è venuto a sentire alle prove ed è stato stato bello anche come la guardava lavorare era era molto orgoglioso si vedeva come procedono le prove come vanno tutte le prove vanno bene ne abbiamo fatte tante perché appunto è una produzione completamente nuova quindi non si sapeva poi i tempi che sarebbero stati necessari però si si lavora benissimo tanto e con la speranza che che si faccia perché veramente saranno sei recite quindi accorrete numerosi la premiere quando sarà aloisa il 21 gennaio ok mi raccomando chi non l'ha ancora fatto biglietti per amorosa presenza con aloisa eisenberg al teatro verdi di trieste mi raccomando la città è un po' lontana però è molto bella quindi vale la pena assolutamente premiere il 21 gennaio esatto mi raccomando poi magari sotto quest'intervista metto i link va volentieri sul sito c'è tutto ok allora loisa tu nel dicembre 2019 sei stata tra i protagonisti di un'opera contemporanea perché ho visto che nel tuo curriculum davvero c'è spazio per tutto dall'opera appunto più cantata e conosciuta del 800 e 900 ma anche opera contemporanea quindi mi incuriosiva farti questa domanda ecco quindi dell'opera contemporanea la notte di natale scritta da alberto cara eseguita al teatro dell'opera giocosa di savona e al teatro luciano pavarotti di modena ecco questa che esperienza fu quella dell'opera contemporanea e in particolar modo di quest'opera allora è l'approccio appunto che io a questi tipi di opere è sempre veramente di grande curiosità perché non sono o non sono mai state fatte o sono state fatte raramente quindi hai più possibilità di dare un nuovo una nuova impronta a questo personaggio è sempre una grande responsabilità perché spesso il compositore viene a sentire la produzione cosa che con rossini purtroppo non può succedere e quindi e appunto a volte non sono mai state fatte la prima volta quindi loro vengono felicissimi di sentire la loro musica eseguita però tu sai che lavoro c'è dietro a questa produzione cioè non lo sai ma lo puoi immaginare quindi io mi sento sempre una grande responsabilità perché per loro sono creazioni veramente come dei figli e poi è bellissimo perché ti possono dire tante indicazioni e su come lo vogliono le intenzioni dinamiche di tutto e di più e la quest'opera è stata bellissima devo dire ma poi una serietà incredibile il regista tutti giovanissimi però veramente era proprio l'hanno fatta anche questa è stata fatta una recita per le scuole quindi quando vengono i bambini loro sono il pubblico più più cattivo tra virgolette perché se li riesci a se li senti coinvolti che stanno in silenzio vuol dire che hai fatto un buon lavoro e quindi anche il regista è stato bravissimo a metterci di tutto per attirarli e quindi molto molto piacevole ok ok tu per la riapertura della stagione del teatro per golesi riesi praticamente il 29 e 30 maggio 2021 quindi più o meno un anno fa hai recentemente interpretato il ruolo di medoro a stolfo nella nell'opera notte per me luminosa di betta ecco ci puoi parlare un po di questa esperienza e delle difficoltà nel ricoprire un doppio ruolo perché penso che non sono poche già farne uno è difficile figurati comunque l'opera era si apriva su un col personaggio di ludovico ariosto in che era un attore in quest'opera che ormai è in là con gli anni e non riesce più a dormire ripensa le sue opere ai suoi eroi ai suoi personaggi cercando di riappacificarsi con le proprie opere prima di di morire era una produzione a chilometro zero perché eravamo tre cantanti marchigiani il regista proprio di iesi e io interpretavo il doppio ruolo di medoro e a stolfo personaggi entrambi tratti dall'orlando furioso e ed erano molto diversi tra di loro perché medoro è appunto è un semplice fante dell'esercito saraceno di cui angelica si innamora vivono questo amore intenso ed è un personaggio estremamente romantico invece a stolfo è veramente tutt'altro perché dotato di di grande spirito di di avventura compie imprese memorabile tra questa c'è la il suo volo sull'ippogrifo in cui va sulla luna a cercare il senno di orlando che ha perduto quindi in quest'area di di astolfo era bellissimo perché c'erano delle tutte delle video proiezioni che tenevano in piedi lo spettacolo in cui infatti ho dovuto girare delle scene in cui non sapevo bene cosa sarebbe uscito però mi hanno fatto girare delle scene poi il risultato era a me che va vagavo nello spazio su tutto il fondale e in mezzo a delle stelle era bellissima e alla fine prodavo su questa luna illuminata e io purtroppo non l'ho visto perché cantando non vedevo niente ma ho visto dei brevi spezzoni ed era bellissimo quindi e anche l'interpretavo l'uomo in entrambi i casi cosa che mi capita spesso ma non è facilissimo perché devi avere proprio delle movenze degli atteggiamenti che ti rendano credibile e quindi però abbiamo lavorato anche lì estremamente bene ok che bella esperienza era tra l'altro il mio primo esperienza nelle marche che è la mia regione quindi doppiamente felice indimenticabile sì 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 ma io me le ricordo tutte per ora devo dire che non me ne sono dimenticata una adesso io ti faccio una domanda proiettata al futuro prossimo nel febbraio 2022 sarai protagonista del concerto dedicato a veil e bruno maderna presso l'auditorium toscanini della rai di torino ecco come ti ovviamente sempre per quello che tu puoi dire come ti stai preparando a questo concerto insomma anche l'onore di poter partecipare a un concerto di questa levatura ecco appunto hai detto bene diciamo che anche questo è uno dei degli eventi persi quindi anche questo lo sto aspettando da due anni e lo aspetto con veramente con tanta emozione perché sappiamo tutti che l'auditorium toscanini della rai di torino è uno dei palchi più ambiti in cui veramente si esibisce il meglio del panorama musicale quindi io sono stata fortunatissima ad essere coinvolta in questo progetto che è stato accettato per fortuna e mi sto preparando devo dire è un grande impegno perché è tutt'altro rispetto al canto lirico al genere lirico vai l'ha scritto queste musiche nel torno al 1930 e sono tutte canzoni col testo di brecht quindi io devo cambiare sia la vocalità che l'espressività la vocalità è una vocalità diciamo simile a edith piaf per esempio per dire quindi niente impostazione lirica esagerata e in più anche dal punto di vista espressivo perché brecht ha sviluppato la teoria del teatro epico cioè quella secondo cui lo spettatore non doveva immedesimarsi ma rimanere distaccato e cercare di capire il messaggio socio politico che la scena stava trasmettendo quindi è un canto veramente molto più più distaccato e quindi non è facilissimo per non parlare del testo in tedesco estremamente difficile perché un testo già il tedesco è sempre difficile ma in queste canzoni sono piene di parole io le vorrei fare a memoria perché è più interessante da vedere quindi insomma ci ci sto lavorando anche con persone esperte proprio di questo repertorio ok in bocca al lupo mi raccomando lo daranno su radio 3 sicuramente perché li danno tutti su su radio 3 i concerti della rai quindi credo anche su rai cultura quindi ci si anche si su rai cultura ho visto che su per esempio non tutti credo su in video però tutti in radio su video che solamente alcuni però ma ancora non so i dettagli a breve lo sapremo esatto ma ti è mai capitato di emozionarti in scena fino alle lacrime mentre cantavi allora diciamo che mi succede più spesso quando ascolto che quando canto perché cantiamo siamo sempre concentrati su tantissime sull'aspetto tecnico interpretativo e soprattutto almeno per quanto riguarda me ma penso in generale la tensione scenica che non va mai persa mai neanche quando gli altri stanno cantando e tu sei in scena fermo anzi a maggior ragione devi essere sul pezzo come si dice però mi è successo comunque un paio di volte mi è successo una volta con un lead di schubert che si chiama gretchen am spin rade che è molto famoso e in cui io cantava mia sorella irene suonava il pianoforte perché abbiamo un duo ed è veramente un testo un lead drammaturgicamente incredibile quindi lì mi viene sempre da piangere anche quando lo calo studio a casa però non me lo posso permettere perché il finale è veramente difficilissimo pieno di acuti cose quindi non è un momento dove magari ci sono dei piani o delle cose in cui te lo puoi può anche succedere quindi mi dovevo trattenere e poi mi è successo anche qui qualche giorno fa durante le prove a trieste perché piovani mi ha raccontato la trama della mia aria che è tratta da una storia vera di che proprio una signora gli ha raccontato una cosa che è successa a lei quindi se verrete a vedere poi si capirà e appunto quindi da quando lui me l'ha raccontato io la canto con un'altra intenzione e l'altro giorno alle prove mi è successo di emozionarmi che bello a noi sa forse ora la domanda più complicata ma guarda cos'è io ti dico ci sono nata quindi è tutto cioè io non ho mai smesso di farla di sentirla e quindi la considero è il mio lavoro ma è la mia passione è quello che io faccio da sempre nonostante a me piaccia fare anche altre cose non è che dico dio o la musica o nient'altro però alla fine la vita mi ha sempre portato a fare quello sostenuta anche da tutta la mia famiglia che non poteva fare altrimenti quindi quando la faccio sto bene sono fortunata perché è un lavoro bellissimo giro il mondo e spero di farla più a lungo possibile allora questa è una domanda un po' curiosa se avessi la possibilità per esempio di pensieresti a fare un concerto dove suoni il violino appunto da violinista solista e se sì nel capo che programma porteresti? ma guarda mi piacerebbe perché a me suonare mi piace tanto anche se non era il mio sogno come fare la cantante mi piacerebbe sinceramente mi piacerebbe riproporre ciò che ho fatto al diploma di primo livello quindi quello chiamato triennio diciamo in cui ho suonato la terza suonata di Grieg che dura 45 minuti quindi ho fatto solo quella e sinceramente ho un bellissimo ricordo perché il diploma era come un concerto è stato un concerto in cui c'erano amici parenti tutti a festeggiarmi e quindi la vorrei mi piacerebbe rifarla ok perfetto ora un'altra domanda curiosa ecco se avresti la possibilità di andare a cena con un compositore con chi andresti? eh oddio ce ne sono tanti però ovviamente da concittadina direi Rossini innanzitutto perché sicuramente visto che gli piaceva mangiare bene mi porterebbe in un ottimo ristorante quindi andrei sul sicuro e poi perché secondo me sarebbe uno spasso perché uno che ha scritto una musica così non poteva essere una persona sgodevole era sicuramente molto simpatico quindi certo ce ne sarebbero tanti perché io non ho un compositore preferito la musica è talmente bella che farei fatica però con lui ci andrei volentieri ok ok allora oltre agli eventi che abbiamo già citato tra quello di febbraio e poi quello imminente di amorosa presenza ci sono altri eventi ovviamente di cui puoi dirci qualche anticipazione che ti vedranno protagonista in futuro allora io devo dire che adesso quelli che ho in futuro non si possono ancora non sai non per cose particolarmente segrete però le stagioni future però in realtà sono mesi che lavoro continuamente perché sono stata una dalle fortunate che è riuscita a recuperare tutto quello che ho perso l'anno scorso quindi sono tanti mesi che sto lavorando senza fermarmi e approfitterò per i prossimi mesi dal concerto dopo di Torino al mio prossimo impegno quindi due tre mesi di pausa per studiare bene perché quando siamo sotto produzione ci dobbiamo concentrare su quello che stiamo facendo al momento e non riusciamo a dedicare tempo allo studio che noi facciamo di tecnica di aria da repertorio quindi approfitterò per rimettermi in sesto su questo su queste cose qua e poi vi saprò dire ok ma ti aspetto di nuovo ad opera classica per le news volentierissimo ok aloisa io ti chiedo dei saluti per il mio programma e per tutti gli amici che ci seguono ma volentieri allora serena io ti ringrazio come ti avevo già anticipato perché mi ha fatto piacere che tu abbia pensato a me ho visto altri ospiti che ha intervistato e quindi mi sento anche onorata ti ringrazio anche per diffondere la nostra arte perché riesce a coinvolgere un pubblico che quello che poi immagino ci venga a sentire e senza il quale noi non non avremmo senso di di esistere come artisti quindi ti ringrazio e continua così fai più interviste possibili e quando vuoi io ci sono grazie grazie aloisa anche per me è stato un vero piacere conoscerti poter chiacchierare con te sul tuo percorso artistico sulle tue belle emozioni in musica e veramente è stato un enorme piacere averti incontrata qui ad opera classica anche se a livello multimediale spero poi di poterti applaudire in teatro quanto prima magari a napoli io sono di napoli quindi magari guarda ma magari sai il teatro della tua città è un sogno per tutti dice anche il palchetto di rossini quindi io ci ho suonato al san carlo con la cherubini abbiamo fatto il balletto il oddio ah sì il don quixote con la svetlana zaccarova tra l'altro quindi fantastica quindi ci ho suonato ma non ci ho ancora cantato ti è piaciuto il teatro com'è sai com'è la città anche si mangia bene dai mi ricordo che ero in crisi veramente ero ingrassata mi sono andata in crisi perché non riuscivo a trovare qualcosa di dietetico effettivamente napoli e i napoletani sono un patrimonio dell'umanità grazie a luisa io ti auguro sempre buona salute buona musica grazie mille anche a te ciao serena ciao